ah ah finalmente è halloween ah chissà come mi divertirò oggi farò la pal festa più grande di tutte ah 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 sono già contento di vedere i primi ospiti ah ecco già qui il primo ospite signor Dracula ah 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 che bello vedervi entrate entrate oh è il nostro amico eccone un altro entra entra ci vediamo tra poco ah la signora più favore dei tutte ah 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 signora come stai tesoro dai entra entra oh anche tu anche il nostro clown mostro che bello che sei qui anche tu spero ti piacerà ah signor evil grazie grazie sono tanto contenta ah 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 play movie 7 mi piace così tanto che bello che vi ho conosciuto mi diverto sempre un sacco con voi ah grazie ehi ehi un momento un Ghostbusters cosa cosa non ti ha invitato cosa ci fai qui ehi 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 oggi vogliamo festeggiare tranne i mostri ehi ehi gli HP fantasmi non sono ammessi ehi 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 Dr. Evil sono io Frankenstein ah accidenti mi sono attraversito da HP fantasmi ah Frankenstein ah ah questo è proprio un costume perfetto mi hai davvero spaventato ah 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 che paura che mi sono presa bene dai entra il party incomincia tra poco sei uno degli ultimi ehm ehm cari ospiti ehm chiedo un attimo di attenzione mi ringrazio per essere venuti prima di tutto ci sarà una festa d'Halloween fantastica e meno male che ci siete tutti sono davvero davvero contenta e spero che vi divertirete un sacco un sacco un sacco di divertimento pauroso e si aprono le danze siiii ha parlato festa eh si si eh grazie eh bene allora eh entrate tutti la porta è aperta e divertitevi ehm ehm clown cosa dici se ci prendiamo qualcosa da bere che lo dici? mmm si una grande idea Frankenstein dai andiamo a vedere cosa c'è là mmm si guarda ma guarda cosa c'è là oh c'è anche il dj oh chissà come ci divertiranno stasera ma dai andiamo a prendere da qualcosa da mangiare dopo più fame oh oh che buoni mmm via guarda topi ratti che buono mmm cosa vuoi mangiare tu? mmm io vorrei un ratto mmm allora buon appetito oh questa sera mmm mmm è proprio proprio buono ah si anche il top è mostrosamente buono ah 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 mmm che bravo che è stato a comprare queste cose mmm per ora è proprio salato quindi avrei sete oh sì sì dai allora andiamo là ci sono le bevande penso oh wow c'è sangue umano mmm la mia bevanda preferita ah ah anche tu ne vuoi uno? mmm sangue umano? oh no io sono allergico mmm io vorrei mmm un po' di succo di ratto ehi 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 ecco voi il capitano dj ehi benvenuti alla festa di halloween dal dottor rivel buon divertimento e buona serata e che abbia inizio la festa musica uh 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 ed ecco la prima canzone pronti partenza via wow guarda un mostro robot grandissimo ta 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 un grande grande party ma guarda qualche festa na 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 gira e gira e salta e salta na 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 oh 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 guarda guarda salute e balla e salta e vai e via funzione errore funzione errore errore tu bu 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 troppa festa amici amici fate pazzo al nostro ballerino sono arrivati il uomo marshmallow il collega festa 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 di halloween festa oh questa musica è troppo troppo alta non riesco a dormire domani devo andare a scuola oh accidenti è da ore che continuano così non è possibile oh sto impazzento basta non riesco a dormire così saranno le tre o le quattro di notte e tra due ore devo alzarmi ah assurdo come faccio così ma cosa sta succedendo chi è che fa una festa del genere avviene da fuori ma un momento ma la casa dei vicini ma perché c'è la musica così alta e in giardino oh no no non è possibile ora chiamo la polizia sì buonasera o buongiorno non so cosa dovrei dire polizia sì sono Jonas ecco allora una i miei vicini di casa fanno una festa con la musica altissima io devo dormire ma non riesco e quindi potete fare qualcosa sì ho bisogno del vostro aiuto perché domani devo andare a scuola sì per favore fate veloce grazie oh la migliore festa di Halloween di sempre oh che bello siamo noi mostri siamo fantastici ah Frankenstein lo so che ci si diverte un sacco ah 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 dai dai è da tanto che non c'era una festa così forza attenzione 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 cari ospiti attenzione sono al poliziotto Peter per favore per favore abbassare la voce abbassare la musica dovete finire la la festa perché la vostra musica è veramente troppo alta e i vicini di casa si sono lamentati è finita la festa attenzione attenzione ripeto il party è finito buuu 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 fate festa accendiamo la musica vogliamo fare festa buuu ehi ragazzi dove state andate ehi non è ancora finito oh ragazzi dai continuiamo siamo mostri dai ragazzi ma dove state andando oh accidenti oh ragazzi ma dove state andando oh non è finita la festa oh restate qui no ma cosa state facendo ehi ragazzi anche per oggi è tutto mi raccomando mettete mi piace al nostro canale e al nostro video per non perdere nessuna avventura dei nostri fantastici amici alla prossima ciao ciao